Eccoci qua, ciao ciao. Dunque, proviamo a caricare la batteria della Cupra Formentor fino all'80% per preservarne la durata e l'efficienza nel tempo. Però quest'opzione al momento non è presente nell'infotainment, quindi come dobbiamo fare? Bene ragazzi, effettivamente c'è questa mancanza un po' grave secondo me in una ibrida, quella di una mancata possibilità di selezionare la carica massima, la percentuale a cui stoppare la carica nell'auto. Abbiamo una soglia minima che invece possiamo impostare, che è molto importante, però insomma è forse addirittura un po' meno importante dell'altra opzione di cui stiamo parlando. La soglia di carica minima ci permette di caricare l'auto in qualunque momento per raggiungere subito la soglia che noi abbiamo impostato. Per cui abbiamo impostato per esempio la soglia al 20%, è il mio caso, torno a casa con una batteria al 10%, collego l'auto, la carica parte immediatamente, raggiunge il 20%, dopodiché si ferma per ripartire poi di notte secondo le programmazioni dell'orario di partenza. Bene, manca l'equivalente al contrario, cioè staccare l'auto all'80%, al 90%, al 70% in funzione delle nostre esigenze. Bene, come fare allora per provare a caricare la batteria della Cupra Formentor fino all'80%? Bene, per provare a capire questo dobbiamo stabilire un paio di cose, fare un paio di conti. Bene, la batteria della Cupra Formentor è di 12.8 kWh, ma quella utile per gestire le cariche, e quindi poi i chilometri che possiamo percorrere, è intorno ai 10 kWh. Questo significa che facendo due conti, andando a una carica lenta, che è quella che io utilizzo, chi mi segue sul canale lo sa già, quindi 1,5 kW, e la durata complessiva per caricare la batteria da 0 a 100% è di circa 7 ore e 30. Chi mi segue sul canale saprà anche che io quasi mai ricarico la batteria da 0 al 100%, ma appunto parto da soglie sempre un po' più alte, quantomeno quella del 20%, che è la soglia minima, che si raggiunge subito appena io attacco l'auto alla corrente. C'è da dire che questa potenza nominale, che determina il tempo complessivo, la durata complessiva necessaria per caricare tutta la batteria, poi non è quella effettiva, perché noi non possiamo utilizzare tutta la potenza direttamente per immettere la stessa quantità nella batteria. È un po' come utilizzare una bottiglia d'acqua, versarla in un contenitore con un collo molto stretto e inevitabilmente un po' di acqua si verserà fuori. Quindi un po' di dispersione c'è anche nel caricare la batteria, circa il 9-10%, questo significa nel caso della carica a potenza ridotta 1,5 kW, sono 1,35 kW. Facendo due conti significa che io in un'ora non immetto in auto 1,5 kW, ma un po' meno. Oppure al contrario, 1,5 kW lo immetto in auto in poco più di 60 minuti, quasi 70. Bene, facendo due conti possiamo ottenere l'unità di base da cui puoi fare i vari conti. Cioè significa che con la potenza di carica ridotta immetto in auto 1 kW, quindi circa il 10% della batteria, in circa 45 minuti. In circa tre quarti d'ora io ricarico un totale di 6-7 km di autonomia. Bene, avendo questa unità di partenza possiamo fare tutti i conti che vogliamo. Sappiamo che 2 kWh, quindi il 20% di batteria, lo carichiamo in circa 90 minuti, quindi il 40% circa 4 kWh nel doppio, in 180 minuti, in tre ore, e così via. Naturalmente è molto importante considerare un altro elemento. Così come la carica di potenza non è poi quella effettiva che otteniamo perché c'è un po' di dispersione, c'è anche da considerare che la durata totale complessiva di carica della batteria da 0 al 100% non è spalmata in modo lineare, distribuita in modo equo, lungo tutto il processo di ricarica. Effettivamente una parte della batteria viene caricata più velocemente, la parte finale, quando la batteria già è abbastanza carica, viene caricata più lentamente. Diciamo che caricare una batteria dallo 0 all'80% è in generale abbastanza veloce, l'ultimo 20% richiede in proporzione molto più tempo. Bene, perché avviene questo? Per una questione di sicurezza. Il principio è corrente costante, poi voltaggio costante. Questa è un po' la regola che viene utilizzata. Cioè la batteria viene caricata alla massima potenza all'inizio, quando è vuota, quando si riempie, man mano che si riempie, diciamo raggiunge la soia fatidica dell'80%, la potenza con cui viene caricata diminuisce perché è aumentato il voltaggio della batteria. Per fare un esempio immaginate una sala di un teatro, di un cinema, anche se ormai i posti sono assegnati, e immaginate che a un certo punto la gente entri, molta gente, tutta in una volta e in fretta. Bene, questa gente comunque riuscirà a prendere posto abbastanza velocemente, perché la sala è all'inizio vuota. Man mano che la sala si riempie, diciamo raggiunge la soia dell'80%, sarà sempre più complicato trovare posto. Cioè richiederà sempre più tempo alle persone a individuare un posto, guardarsi intorno, cercare il posto giusto, magari andare a sedersi scavalcando persone, chiedendo permesso perché il posto è proprio in mezzo a una fila affollata, eccetera. Cioè vedete, è un po' questo il principio. Man mano che la sala si riempie, per occupare gli ultimi posti serve più tempo. Ma soprattutto c'è un problema. Le persone poi a un certo punto possono creare assembramenti, caos, confusione, perfino litigare perché 4-5 persone hanno visto tutto lo stesso posto e vogliono andare a sedersi lì. Magari la situazione poi sfugge anche di mano, si infiamma, si incendia. Sto utilizzando questi termini non a caso naturalmente, perché è quello che può capitare in una batteria con un sovraccarico di potenza, e quindi un surriscaldamento, un principio di incendio, uno scoppio. Fiamme, batterie non vanno affatto d'accordo. Allora, per evitare questo, cosa succede? Beh, immaginate sempre questa sala cinematografica. Immaginate che uno steward, una maschera, si chiamava una volta, sia lì a regolamentare il flusso di ingresso una volta che la sala ha raggiunto l'80% di capienza. Quindi fa entrare due persone alla volta, quattro persone alla volta, aspetta che prendano posto e poi ne fa entrare altre due, altre quattro. Ecco, quindi l'ultimo 20% naturalmente occuperà la sala in maniera molto più ordinata, ma anche più lenta. Questo significa che qualche spettatore in fila, vedendo che ci vuole molto tempo per entrare e prendere posto, deciderà di andare via. E così magari qualche ione di litio lo perdiamo. È quello che purtroppo può capitare, ma è il prezzo da pagare per avere la capienza massima possibile in totale sicurezza. Evitare, cioè, di mandare dentro alla massima potenza tanti ioni che non riescono a trovare subito posto nelle celle e quindi stanno lì, insomma, a litigare magari, a creare una situazione un po' surriscaldata e chissà, magari anche un incendio. Allora, spero che questo esempio sia stato utile per capire un po' quello che capita anche nella carica di una batteria. Quindi, man mano che aumenta la capacità della batteria, il suo voltaggio, la corrente progressivamente diminuisce. Questo significa quindi che, man mano che ci si avvicina al 100%, in particolar modo dall'80% in poi, la carica richiede molto, molto, molto più tempo. Vedete nello screenshot che vi metto qui nella clip, che effettivamente l'ultimo 10% della batteria della Cupra Formentor, in realtà ero già oltre, ero al 91%, richiede come tempo residuo 1 ora e 10 minuti. Beh, 1 ora e 10 minuti è molto di più rispetto a quei 45 minuti da cui ero partito qui all'inizio del video, ricordate? 1 kWh in 45 minuti. Qui siamo a 1 kWh, anzi un po' meno, 1 ora e 10. È quasi il doppio, sono praticamente 70 minuti invece di 45, anche 80 minuti probabilmente. Quindi, vedete come il tempo si allunga, quasi raddoppia, verso la fine, quando la batteria è quasi ormai carica. Nelle auto elettriche, con batterie molto capienti, caricatori molto veloci, in effetti i costruttori stessi dicono di caricare fino all'80%, perché in metà tempo praticamente la batteria si carica fino all'80% e poi il resto del tempo lo occupa per caricare l'ultimo 20%. E l'80% in una batteria capiente significa comunque avere già diverse centinaia di chilometri di autonomia per poterci spostare in tranquillità. Quindi veramente caricare fino all'80% in un'auto elettrica è una cosa che ha molto senso. In un'auto ibrida con una batteria più piccola si tratta di fare delle valutazioni, capire se quell'80% soddisfa comunque le nostre esigenze di spostamento, significa rinunciare praticamente a una decina di chilometri, 10-15 chilometri, in funzione naturalmente del percorso, vedere se ci rientriamo in quell'80%, allora a quel punto potrebbe essere utile, sensato, ricaricare fino all'80% anche la batteria della Cupra Formentor. Naturalmente non soltanto per ridurre i tempi di carica, ma in questo caso per allungare un po' la vita della batteria. In effetti le batterie moderne soffrono un po' non più del cosiddetto effetto memoria, per cui ricordate, una volta bisognava lasciare scaricare tutto il dispositivo per poterlo poi ricaricare. Adesso non c'è più l'effetto memoria, le batterie a ioni di video possono essere caricate in qualunque momento, a qualunque percentuale, anzi è consigliato tenerle sempre, come dire, attive. Non è necessario quindi aspettare che si scarichino completamente, però c'è una raccomandazione, quella di evitare di mantenere le batterie troppo a lungo in quei due estremi un po' pericolosi, che sono lo 0-20%, cioè batteria scarica, e l'80-100% batteria carica. La stessa Cupra A nel manuale ufficiale della Cupra Formentor ricorda che, insomma, è preferibile non mantenere la batteria troppo a lungo scarica, e se la si carica fino al 100% è di prevedere l'utilizzo dell'auto subito, insomma, di non lasciare una batteria carica al 100% per troppo tempo. Sono i due estremi che noi vorremmo evitare, quindi il range ideale di funzionamento della batteria è tra il 20 e l'80%. Funziona così con molte batterie intelligenti, anche con tecnologie leggermente diverse, come quelle, per esempio, dei droni di fascia medio-alta, che dopo diversi giorni di inutilizzo cominciano ad autoscaricarsi, e una capacità di autoconservazione, diciamo così, vanno in self-storage, per cui si scaricano progressivamente e automaticamente, senza che nessuno se ne accorga, per arrivare a raggiungere un 30-40% di capacità. Questo perché è il range ideale in cui la batteria si mantiene senza particolari problemi, anche a lungo, e non perdiamo in giro degli ioni di vitio che si sono scocciati ad aspettare di entrare in sala, per cui la batteria viene preservata. Allora, proviamo a fare lo stesso, naturalmente, anche con la batteria della plug-in hybrid. Ma come fare? Bene, se riprendiamo lo screenshot, quello appunto dell'ultimo 10%, l'ultimo miglio da percorrere per caricare la batteria, avete visto circa 1 ora e 10, 1 ora e 20. L'80-90%, quindi quel 10% lì, richiederà leggermente meno tempo dell'ultimo 10%. Insomma, considerando l'ultimo 20%, a quella potenza, 1,5 kilowatt, lo ricordo, significa immaginare circa 2 ore, 2 ore e 30 di tempo che se ne va soltanto per ricaricare l'ultimo 20%. Quindi, vedete, è una buona fetta del tempo complessivo necessario per ricaricare tutta la batteria da 0 a 100 che è occupata soltanto per caricare l'ultimo 20%. Allora, possiamo fare molto semplicemente questo aggiustamento empirico. Come? Beh, collegate l'auto quando è intorno all'80%, aspettate qualche istante e verificate quale tempo residuo vi restituisce per sapere quanto tempo ci vuole per arrivare al 100%. Questo in funzione, naturalmente, della potenza di carica che voi utilizzate. Bene, quell'intervallo di tempo è quello che dovete andare ad aggiungere nell'e-manager, quindi nella gestione della programmazione degli orari di partenza, nell'infotainment dell'auto, per provare a staccare l'auto quando invece è ancora all'80%. esempio, io ho una programmazione alle 8 del mattino quando prendo l'auto, invece di mettere 8 del mattino nell'infotainment metto 10 e 30 del mattino, cioè aggiungo 2 ore e 30. Quelle 2 ore e 30 sono le 2 ore e 30 necessarie per raggiungere il 100%, più o meno è quello il tempo. Quindi quando io effettivamente andrò alle 8 del mattino in auto, l'auto non lo sa che io la sto prendendo in giro, finché non lo scopre, e magari fa qualche scherzetto, insomma io salirò effettivamente in auto alle 8. Quindi prenderò l'auto quando non è ancora partito quell'intervallo finale, quelle 2 ore e 30 finali che servono per ricaricare l'ultimo 20%. Quindi prenderò l'auto intorno all'80%. È un esperimento che potete fare tranquillamente anche voi, non serve altro, provate una sera, una seconda sera, e magari proverete a capire anche qual è effettivamente l'intervallo giusto da aggiungere nella programmazione degli orari di partenza, che naturalmente, ripeto, cambiano, perché in inverno c'è una temperatura diversa, ripeto, all'estate, però vuol dire, questo è l'aggiustamento da fare. Quindi verificate il tempo residuo di partenza, nel mio caso sono più di 2 ore, 2 ore e 2 ore e 30, che io ho aggiunto all'orario reale, in cui effettivamente salgo in auto. Bene, quando salgo in auto, io trovo l'auto intorno all'80%, un po' di più rispetto all'80%. Questo è l'unico modo che abbiamo al momento per provare a stoppare la carica dell'auto all'80%. Potremmo utilizzare naturalmente anche un altro tipo di dispositivo, per esempio una smart plug, e farla interrompere a un certo orario, in base ai conti che abbiamo fatto per quello che serve per la ricarica, oppure un dispositivo che conteggia magari i kilowatt che sono passati dalla spina, diciamo, fino al caricatore dell'auto, e quindi quando abbiamo raggiunto un tot di kilowattora, e farla staccare. Ma naturalmente capite bene che questo è un valore relativo, perché non tutte le sere caricheremo la stessa quantità di kilowattora in auto. Quindi la cosa più facile da fare invece è dire all'auto io parto sempre due ore e mezzo dopo. Quelle due ore e mezzo che servono a te per raggiungere il 100%, ma io la prendo prima, così quel 100% non lo raggiungiamo mai. Dunque ragazzi, sono quasi le 8 del mattino, quindi l'orario reale in cui io sono salito in auto, l'auto programmata due ore e 30 dopo, quindi vediamo che cosa troviamo in auto, andiamo ad accendere, e la cosa interessante è scoprire la batteria 80%. Anzi, a meno se avessi fatto i conti lì con la calcolatrice, un po' vi l'ho fatto in realtà. Quindi due ore e mezzo in più nella programmazione dell'auto mi permettono di salire in auto effettivamente con l'80% di batteria. Quindi test che è perfettamente riuscito, fate i vostri conti, i vostri aggiustamenti in funzione naturalmente della potenza con cui caricate. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto, sia utile, ma mi raccomando, attendo magari le vostre valutazioni, i vostri conteggi, i vostri calcoli matematici, scientifici, strani, insomma, qui sotto nei commenti del video, sempre con molto piacere. Se vai iscrivetevi e ci vediamo alla prossima, sempre ciao ciao!